Buon pomeriggio e buona domenica dal telegiornale di Telequattro. In apertura domani 1 maggio lo striscione dei lavoratori Varsila aprirà il corteo della festa dei lavoratori organizzato dai sindacati che sfilerà da San Giacomo a Piazza Unità tra i temi della manifestazione e anche il rinnovo dei contratti e l'adeguamento dei salari al carovita. Intanto l'USB che come sappiamo sfilerà in modo separato ha ottenuto da parte della Digos il permesso di usare l'altoparlante. Vediamo. Solito percorso partiamo dalle 9 da Campo San Giacomo per arrivare a prodare in Piazza Unità dove ci saranno gli interventi conclusivi delle confederazioni. Saranno come annunciato i lavoratori Varsila ad aprire il corteo organizzato da CGL Cisle Will per il 1 maggio. Il futuro dello stabilimento di Bagnoli sarà il tema principale ma non l'unico della manifestazione con al centro il lavoro. Col tema delle vertenze che abbiamo in campo come quello della Varsila, della Tirso o altre imprese che in questo momento se la passano male. Su Varsila è chiaro che noi chiediamo un impegno forte del governo che risponda alle promesse che sono state fatte. Per quello stabilimento serve una prospettiva strategica industriale per il paese e per il territorio in grado di dare una risposta a tutte le lavoratrici che rischiano il posto di lavoro in Varsila ma anche dell'indotto ovviamente. Noi chiediamo ovviamente l'unità di tutta la città perché come abbiamo dimostrato questa città, come ha dimostrato il 3 settembre scorso, quando è unita per la Varsila è in grado di portare a casa dei risultati. Non si placa intanto la polemica innescata dal segretario USB, Sascha Colauti, che ieri aveva apertamente attaccato la CGL e che domani sfilerà con il cosiddetto spezzone sociale del corteo, seguendo il percorso verso Piazza Libertà. Questa mattina il corteo degli antagonisti ha ricevuto dalla Digos il permesso di utilizzare l'impianto d'amplificazione in un primo tempo negato, ma i distingo rispetto agli altri sindacati, fa sapere Colauti, rimangono. Le contrarietà sono legittime, spieghino cosa vogliono fare, ma credo che la giornata, la festa lavoro non debba essere caratterizzata da scontri o conflitti che non servono a nessuno. Se a livello locale saranno le crisi industriali a tenere banco negli discorsi ufficiali, il corteo di domani non mancherà di mettere in evidenza i temi del dibattito nazionale, a cominciare dai contratti e i salari. Cigile e Cigile Will chiedono delle politiche sostanziali sui salari, abbiamo la necessità dei rinnovi dei contratti nazionali per dare una risposta ai bisogni delle persone, al potere d'acquisto eroso, in particolar modo dall'inflazione, ma da anni di incuria rispetto appunto al tema del rinnovo dei contratti nazionali. La cronaca all'aeronautica militare ha espresso cordoglio per la morte del capitano Alessio Gersi, delle frecce tricolori morto insieme con un parente in un incidente con un veivolo ultraleggero e ha reso noto che è stato annullato il tradizionale evento del primo maggio a Rivolto. Il parente appunto di Alessio Gersi era Sante Ciaccia di 35 anni, si tratta di un parente della moglie del pilota del velivolo, il capitano dell'aeronautica Alessio Gersi, che era dal 2018 componente delle frecce tricolori. Secondo quanto si è appreso, Gersi e Ciaccia stavano facendo un sorvolo serale di qualche minuto per ammirare il paesaggio montano, si trattava quindi di un volo di svago. Grazie a tutti. I colleghi del turno smontante mi riferiscono tutto sommato mattinata abbastanza tranquilla con interventi di routine niente di drammatico. Per quanto riguarda la giornata di oggi posso segnalare che nel pomeriggio verso serie 17.30 ci sarà l'incontro, la partita di Palacanestro presso il palasporte di Via Flavia. Poi ancora alle 18.30 c'è una processione che partirà da Piazza Vecchia della chiesa Beata Verlian del Rosario, farà le zone, la limitrofe alla chiesa. Ecco, diciamo quindi un percorso piuttosto piccolo. Poi posso anticipare per domani, come ha detto bene lei, ci saranno due cortei. Il primo, quello diciamo clou, quello maggiore, che riguarda appunto il rione di San Giacomo. Allora, sì, partirà da Campo San Giacomo, verso le ore 9 dovrebbe partire da Campo San Giacomo, interesserà le vie Caprimo, Lino Avento, Garibaldi, poi giù per Barriera Vecchia, Carducci, Oberdanghega, Roma, Valgerivo, Cavour e Riva 3 novembre con arrivo in Piazza Unità d'Italia. L'arrivo è previsto verso le ore 11. Ancora una cosa, non c'è solo questo corteo domani, c'è neanche uno diciamo più piccolo, il quale con un ritrovo alle ore 9 a Opicina, presso il Monumento ai Caduti, poi il corteo verso Piazzale Monterè e fino da qui fino alla chiesa di Prosecco. Ecco, questi sono gli eventi della giornata di domani, cosa mai non ci sentiamo. Un saluto, restituisco la linea. Grazie, grazie, buon lavoro e buona giornata, buona domenica anche a lei e ai suoi colleghi. Grazie altrettanto a voi. Grazie, grazie, buona giornata. Allora, un'altra attività della polizia locale, qualche settimana fa il nucleo di polizia giudiziaria ha ricevuto la denuncia di un cittadino per danneggiamento del suo veicolo in sosta. Affacciato dal suo appartamento in zona San Vito aveva notato un mummo anziano che dopo essersi avvicinato all'automobile ne incideva tutta la fiancata con un oggetto appuntito. Il proprietario con grande prontezza di riflessi è riuscito però a riprenderlo col cellulare e durante la denuncia ha consegnato il video alla polizia locale quale elemento di prova. Gli investigatori hanno acquisito sul territorio informazioni su possibili sospetti. Il confronto con le immagini del video hanno permesso di focalizzare l'attenzione su uno specifico individuo, un uomo di 80 anni che è stato subito convocato nella caserma di via Revoltella. Questi di fronte all'evidenza dei fatti ha ammesso le sue responsabilità da cui la denuncia per danneggiamento aggravato. Il Conservatorio Tartini festeggia 120 anni di attività, tanti gli eventi in programma quest'anno, oltre 150 concerti per celebrare lo storico istituto. Vediamo. Il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste festeggia nel 2023 i 120 anni dalla sua nascita e celebrerà questo traguardo con oltre 150 concerti in media due settimane. Una primavera densa di iniziative come la partecipazione al Mittelfest e al centenario del Teatro Verdi di Muggia. Il 3 maggio invece al Teatro Rossetti ci sarà l'esibizione proprio in occasione dei 120 anni del Conservatorio. 120 anni sono tanti, sono tanti. Non posso che complimentarmi con chi prima di me ha fatto crescere questa struttura, che non è più una struttura esclusivamente musicale, non è più, pur essendo uno dei 13 conservatori storici, non è più solo musica, è attrazione. Attrazione per chi? Per studenti, per docenti, che non sono solo italiani, non sono solo triestini, ma vengono da tante parti del mondo. Mi piace ricordare una cosa. Recentemente il Tartini è diventato centro di accoglienza, tramite Erasmus, ma non solo. Ha prestato attenzione, purtroppo, alla guerra in Ucraina, o Ucraina, che di si voglia, sappiamo tutti cos'è, e ha accolto parecchi studenti provenienti da lì. Studenti che non hanno trovato soltanto accoglienza dal punto di vista musicale e didattico, ma hanno trovato accoglienza dal punto di vista umano. Un gioiello verde in centro città, così il sindaco di Gorizia, Ziberna, definisce il parco che nascerà nell'area verde della valletta del torrente Corno. Vediamo. Ecco, quello alle mie spalle è quello che noi simpaticamente chiamiamo il Central Park Goriziano. Prende forma il Central Park Goriziano, come è stata ribattezzata scherzosamente, ma non troppo, l'area verde della valletta del Corno. Il sindaco Ziberna ha effettuato recentemente un sopralluogo per fare il punto della situazione sui lavori che, dopo alcuni rallentamenti dovuti prima al Covid e poi alla crisi delle materie prime, stanno ora riprendendo e, se non ci saranno ulteriori intoppi, dovrebbero concludersi in gran parte entro l'autunno di quest'anno. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato una delibera per sbloccare la situazione. Parliamo di una zona che era letteralmente impenetrabile, una selva, un bosco di circa un chilometro di lunghezza che il Goriziano assolutamente non poteva utilizzare. Oggi sarà un luogo di ritrovo per tantissime famiglie, con tantissime attrezzature, dallo svago allo sport, il gioco, occupazione e tempo libero, dai bambini agli anziani. Davvero una cosa stupenda. Peraltro, già la prossima estate, il tratto più vicino al confine sarà attrezzato, percorribile e illuminato e progressivamente finiremo i lavori anche in questa zona. Parliamo di un'opera molto importante, parliamo di 16 milioni di euro a base d'asta e un polmone verde che oggettivamente altre città non hanno e ci sarà perciò un motivo in più che arricchisce di appeal in Gorizio. A parlare più in dettaglio del cantiere, l'assessore ai lavori pubblici Sara Filisetti. Recentemente è stata approvata in giunta la variante nella quale sono previste ulteriori opere di riqualificazione del verde e riqualificazione urbana. È prevista la realizzazione di un pump track o skate park e l'implementazione dei percorsi ciclopedonali che saranno tutti completamente illuminati. Verranno realizzati degli ulteriori ponti e nota fondamentale una galleria che consentirà di collegare le due parti del parco e sarà posizionata in corrispondenza del Via Leoriani. La Carnia abbraccia Trieste, il titolo della manifestazione che ha invaso pacificamente questa mattina a Piazza Unità. Vediamo. Un'invasione pacifica, anche se piuttosto rumorosa, ma che non passa certo inosservata, è quella dei boscaioli dell'iniziativa Alla Carnia Braccia Trieste, ideata da Edici Cutti e giunta alla quarta edizione. Motosega in azione per scolpire tronchi d'albero e farne vere e proprie opere d'arte. E poi ricamatrici e musicisti, tutto questo ha colorato questa mattina il salotto di Piazza Unità sotto lo sguardo divertito di tanti triestini e turisti. E il ricavato delle offerte libere andrebbe in efficienza al burlo garofolo. Io amo Trieste, mi piace da matti questa città, mi piace questa piazza. Il mio sogno nel cassetto era riuscire a fare una manifestazione con le motoseghe qui in Piazza Unità d'Italia Trieste. Ne ho già fatte tre, due sul bosco distrutto da Alvaia, a Sutrio, sullo Don Colan e una a Lignano, ad Aprile a Marittima. E questa è la quarta edizione, la Carnia a Braccia Trieste. E siamo alla pagina del tempo, vediamo insieme la situazione con il sito dell'Osber Arpa Regionale. Un fronte atlantico genera una depressione sulla Sardegna. Martedì si sposterà verso il Marionio e sul nord Italia. Fluiranno in seguito correnti settentrionali più secche. Per oggi si prevede cielo in prevalenza nuvoloso, con possibili deboli piogge in giornata e forse qualche rovescio. In giornata inizierà a soffiare anche la bora sul carso dal pomeriggio sera anche sulla costa. Mentre per la giornata di domani, lunedì 1 maggio, di mattina cielo in genere variabile, con bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa. In giornata aumento della nuvolosità, attenuazione del vento, verso sera saranno possibili locali piogge in genere deboli. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. Ci rivediamo alle 19.30 con l'edizione serale. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio.